Un Natale che non dimenticheranno facilmente i bambini delle case celesti a Secondigliano che oggi hanno partecipato al torneo inaugurale del campetto di calcio a 5 in erba sintetica del quartiere. È il frutto della collaborazione tra Comune di Napoli e Coca-Cola Italia, avviata in occasione del tour della Coppa del Mondo FIFA 2018. L'evento fece tappa nei quartieri del Vomero, San Giovanni a Teduccio e Scampia, ma la multinazionale decise di voler lasciare qualcosa che restasse ai ragazzi di Napoli e da qui la collaborazione con il Comune per la realizzazione del campetto. Una bella giornata per Secondigliano, per questo posto che è stato un posto molto difficile per la città e oggi vogliamo dargli una speranza con questo campetto. Un campetto è una speranza per un bambino, per dei bambini che finalmente hanno la possibilità di poter giocare in tranquillità e in sicurezza. È una bella iniziativa fatta con Coca-Cola, nata due anni fa e oggi finalmente la portiamo a termine con un successo discreto per la cittadinanza che aspettava veramente questo segnale dall'amministrazione. Noi abbiamo avuto attenzione per questo luogo perché riteniamo sia estremamente significativo. È un bel risultato di collaborazione tra il territorio, il Comune di Napoli e l'azienda Coca-Cola. Ecco quanto è importante quando le relazioni per la comunità producono piccole cose che sono però grandi cose per un quartiere come questo. Vedere la gioia dei ragazzi che giocano a pallone è molto bello. Adesso questo campo va difeso ma non ho dubbi che lo difenderanno loro perché avere spazi in cui giocare non è mai scontato. Quindi oggi è un giorno bello perché ancora una volta cerchiamo di dimostrare che lo sport rappresenta un punto di forza della nostra città perché significa aggregazione, stare insieme, far giocare i ragazzi e sottrarli magari ad altre attività che non sono allo stesso modo utili come lo sport, come un campo di calcio di erba sintetica a 5. Il calcio è importantissimo perché è una fucina di talenti. Molti campioni sono nati nella storia dalle periferie. Quindi noi dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani di esprimersi. L'importante poi è giocare, partecipare, esserci. Non è che tutti devono giocare con l'idea di diventare campioni. Però è molto bello vedere che in questi anni gli spazi pur tra mille difficoltà si stanno creando nella nostra città per lo sport. Basti vedere quanti impianti abbiamo ristrutturato con le universiari e quello è un risultato straordinario. Ma anche questi piccoli spazi che sempre di più ci sono nella nostra città dimostrano che questa è la nostra volontà. Poi quando ci sono privati, come in questo caso, che investono nella nostra città noi siamo felici, siamo contenti perché è un segnale importante di sensibilità per i nostri ragazzi e per i nostri bambini.